Master Shelf Italia promuove il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispetta l'ambiente e non sprega risorse alimentari. La produzione adotta in tutti i luoghi di lavoro un approccio plastic free. Il cibo non impiegato nelle prove viene donato a Last Minute Market. Nella puntata precedente, gli aspiranti chef hanno affrontato lo skill test. Il tema di questo skill test è le tecniche di cottura. Sono pronta a tutto. Chi se ne frega, facciamo fuori tutti, no? Nel primo step hanno dovuto gratinare cinque diversi ingredienti. Allora, tam, tam, tam. Sono dietro. Antonio, se lo guardi non è che fa prima. Sono un po' timide le tue gratinature. Fuori uno. Lo vedi anche tu che non è un gran lavoro. Tu il talento lo stai buttando via. E qua. Ci hai messo sale? Invece di metterci lo zucchero? Due hanno conquistato la balconata. Grazie, chef. Grazie, grazie. Grazie, chef. Lasciamo scannare gli altri. Gli altri, nel secondo step, si sono misurati con la cottura in umido. Bollo in umido. Ah, cosa avevo di meglio? C'è un problema. Questo è cotto giusto, questo no. Il sugo dov'è? Nicolò e Luciano hanno fallito la prova e hanno dovuto affrontare l'ultimo e decisivo step. Dovrete preparare un piatto utilizzando una fumigatura. Forza! Luciano, devi lasciare la cucina di Masterchef. Voi siete sopravvissuti dello skill test. Ora, per tutti, la sfida si accende. Alzate la mystery box. Il titolo è sempre più vicino. Merita di andare al prossimo importante appuntamento. Sto cercando ancora un po' di realizzare che siamo cinque. Manca veramente poco alla finale che la vedo sempre più vicina, sempre più mia. Bentornati a Masterchef. Grazie, Masterchef. La mystery box. Dentro a questa scatola misteriosa, negli ultimi mesi avete trovato un po' di tutto. Ogni volta vi siete misurati con un aspetto importante della cucina e avete imparato qualcosa di diverso. Qualcosa che spero rimarrà dentro di voi per sempre. Nicolò, a te cosa ti ha dato Masterchef? La gioia di avere un tagliere, un coltello e degli ingredienti da trasformare. Bravo. Bene. Ottimo. Adesso alzate la mystery box. Et voilà. Adesso? Quando non c'è nulla, non è bello. Perché tutto può cadere. Vi vedo ovviamente sorpresi. Stai di carnia. Perché nella mystery non c'è niente. Quello che le mystery box avrebbero dovuto contenere è talmente grande che nella scatola di legno purtroppo non ci sta. No, fate così. Cosa arriva adesso? Per questa mystery box dovrete infatti cucinare ognuno di voi un piatto diverso e ogni piatto sarà presentato da un ospite. Scoprirete il vostro ospite nella Master Room. E cominciamo con te Marisa. Bene. Segui. Iniziano a sudarmi un po' le mani. Di qua. Curiosi, eh? Cara Marisa, la persona di cui dovrai replicare il piatto è anche tuo grande fan. Che entri il nostro ospite. Ben arrivata. Buonasera. Ciao, bambino. Cucciolo. Grazie. Benvenuta, signora Bettina. Mia mamma mi dà forza. Non ci poteva essere persona migliore vicino a me. Bettina, vuoi svelare il piatto a tua figlia? Eh, certamente. Eccoli qua. Cos'è, signora Bettina? Lo dia qua a me. Questo è un cauli di fiori con il spezzatino, è origine tedesca. Ah, è un piatto tedesco? Sì, un piatto della domenica. Aveva bisogno di sostanza, carne. Ah, sì. E' un fiore. E allora Marisa, oggi dovrai rifare il piatto, ma questa volta dovrai aggiungere la consapevolezza che hai acquisito qui a Masterchef. Ti senti pronta? Sì, assolutamente sì. Ma che emozione, fa vedere. Stavo guardando se c'era un po' di insomma. No, si assomiglia il papà. Ah, sei tutto tuo padre. Si assomiglia il papà, ha solo i colori miei. Il biondo tedesco, che piace. Il biondo costo con il carattere. Adesso vi lascio sole per confrontarvi sul piatto. Vi ritroverete alla postazione in cucina. Ok? Ok. Sì, chef. Quindi qua, comunica, vieni qua. Avrei voluto proprio te qua. Mi sei contenta del piatto? Sì. Lo spezzatino cosa hai fatto? Ci ho messo dentro il pomodoro. Lo spezzatino di mamma, ci sono ore e ore di lavorazione. Non ci vinciamo noi. Spero di avere due ore per fare la prova, perché è lo spezzatino. Davide, è il tuo turno. Vieni con me, seguimi. Che entri pure il nostro ospite. Sto tremando io, tutto tuo. Le presento mia moglie. Mi è innamorato perso di mia moglie, veramente. Quindi, grazie davvero. Monica, ci presenti il tuo piatto? Sì. Un risotto con taleggio, pancetta e radicchio rosso. Ho scelto questo piatto perché, grazie a Davide, l'amore mio, ho iniziato di nuovo a mangiare il riso, che era una cosa che non mangiavo, proprio non mi piaceva. Ti ha dato un'espressione di gratitudine, eh? È dura per gli altri oggi, chef. Attenzione, overconfidence is never good. Ok? Grazie, chef. Piacere di conoscere. Grazie, piacere mio. Ciao. Grazie. Brava, brava, ottimo scelto. Sono carico, risotto. Non potevo portare altro. No, no. Ok. Oggi la sua presenza e questa ricetta mi potrebbe veramente portare a fare un piatto verso la finale. Tom. Mamma, che ti piace la carne. Ma Tom, come sei, Magarito? Lo stai mangiando? No. Ehi, ehm. Oh, oh. Oh, ma volevo farti ridere, non piangere, eh? No, sono felice. Ma che torno a casa. Sono felice. Oh, che torno a casa. No, sono felice. Mi dispiace quasi separarvi, ma dobbiamo parlare pure di cucina, eh? Non, non sono davvero veramente... Non penso neanche saliva in quel momento. Daniel, presenta il piatto. Che piatto è, Antonio? E il piatto che mi è stato regalato da mio papà, pochi giorni prima che mancasse, se l'ha fatto impacchettare. Daniel, perché hai scelto la paella? Una vita fa, appena conosciuti, dopo 15 giorni siamo andati a convivere. Prima sera, cucina la paella. E io, buona, buona, meravigliosa. Allora, secondo giorno l'ha rifatta. Terzo giorno anche, quarto, quinto, sesto, settimo. E noi andiamo anche sul gelato un po'. E dopo 15 giorni ho detto, ma ci possiamo evolvere a facciare qualcos'altro? E adesso dovrai rifare il piatto portato da Dani. Spaghetto al pomodoro! Non ti puoi lamentare, eri felice. E poi perché non hai fatto lo spaghetti al pomodoro a vostro incontro? Devo far bella figura. Eppure lui voleva far bella figura. Giusto. Cioè, ha moltissime elaborazioni. Adesso non so quanto tempo avremo, ma... È complicata, è mica una roba semplice questa da fare. Vabbè, da quando mai ti fanno paura le stride? Abbottonati un po', guarda che... Adesso fai la spesa, non si paga, quindi prendi pure tutto. E' buccanico, comunque, per me hai già vinto. Grazie. Sei curioso, eh? Molto, chef. Che entri l'ospite! Ciao! Grande! Io e mio fratello ci vogliamo un gran bene. È proprio un punto di riferimento per me. Perché io so che qualsiasi cosa, in qualsiasi momento, lui c'è. Presentiamo il piatto che hai portato. Così mi picchia. Ah, te mena subito così? Sì, lui è sempre stato quello un po' più... Cioè, quello che menava? Quindi tutta la sua cattiveria l'ha sfogata su di te. Ci siamo picchiati tantissimo da piccoli, oh mamma mia! Ah, gnocchi di semolino. Gnocchi alla romana. Praticamente è un piatto che nostra nonna ci cucinava quasi tutte le domeniche. Ma non mi ricordo le dosi. Qualcosa mi posso suggerire? Certo, va bene. Ok, vi lascio. Guarda, ti ho fregato. Ma le dosi? E ora, dopo ora te le dico sull'orecchio, vai, vai. 200 grammi di semolino, 300 grammi di semolino, con un litro di latte e più. Che cosa hai? Voglio fare un zucchettino di pesce. La creazione della nonna è sacra. Non si può pensare nemmeno minimamente di andare a toccarla. Però si può fare qualche aggiunta. Vedi? Ma tu sei bella. Tu sei bella, mamma mia. Non mi fare piangere. Ho capito che è tua mamma. La vedo un sacco. E la mia merita. Che sembra buona adesso. È arrivata negli ultimi cinque, signora. Io non... Non si capacita di questa cosa. No, non è che non mi capacito, ma non avevo capito la profondità di questa sua vocazione. Mi vergogno tanto. C'è riuscito in un pianto fino ad adesso. Mi vergogno tanto. Grazie. E lei non mi ha mai detto sei stata brava. Nella vita. Però adesso è venuto il momento, signora Carla, di presentare il piatto che ha portato per Maria Teresa. Questo è il tortino di bietole. È un purè di fave bianche. È il mio piatto preferito in assoluto. È la cosa che ancora oggi, quando torno a casa, io le chiedo di farmi. Sua mamma è una brava cuoca. È una bravissima cuoca. Tutto quello che so fare... Ma no tutto quello che sa fare, no. No, no, assolutamente. È solo che io sono stata una mamma severa. Tutto quello che faceva dicevo che poteva fare meglio. Anche in cucina, ma non pensavo arrivassi a questo punto. In pratica ti tocca non solo inorgogliere tua madre, ma anche superarla oggi. Ho paura che se lo faccio non posso poter tornare a casa. Vi lascio sole per due minuti. Grazie, chef. Grazie. Come posso? Devi cucinare le fave nel latte. Taralli sbriciolati. In mezzo all'impasto? Sì. Va bene la ricetta di mia mamma, però io ci voglio aggiungere del mio. Ma non voglio stravolgere... Forza che sai fare tanto. ...il senso di quello che lei mi ha dato per questa prova. Per questa mystery box dovrete cucinare il piatto che vi ha portato il vostro più grande fan e che appartiene alla vostra storia comune. Però dovete fare un piatto all'altezza di questa cucina e quindi sarà necessario reinterpretare la portata originale. Avete 45 minuti a partire da... Ora! Come a casa, eh? Tu cucini il guardo. Gli ha portato un piatto che l'ha ammazzato. È veramente una lotta al tempo, eh? Cioè, fai in 45 minuti e... È una guerra. La prima cosa, adesso devo pulire il pesce e poi, piano, pomodori devo farli sbollentare, togliere la buccia, tagliare i peperoni, sbucciare i piselli, sbollentare i fagiolini, mettere il riso, marinare il tonno. C***o! Anche le cose da pulire. Come ti senti? Bene, bene. Dai, mamma. Hai messo l'acqua a bollire? Sì. E il sale nelle fave? Alla fine. Dopo? Alla fine. Ok. Attenta, eh? Sei tranquilla? Eh no, non so tranquilla. Cucinare davanti a mia mamma fa quasi più ansia che cucinare davanti ai trenciutici. Forza, forza. Ciao, mamma. Ce la puoi fare? Oddio. Ciao, mamma mia. Mary, ma le fave mica le spente? No, no. Hai acceso il forno per la gratinatura? È la prima volta che dico qualcosa di sensato, forse, è vero, in cucina? Sì. Senti, Codorino. Buono? Mm-mm. Più mi dice, mamma mia che profumo, e più mi caso. Cavolo, ci sto dentro a sta prova. Ma come stai facendo gli gnocchi alla Roma? Loro possono reinterpretare. Ti faccio il caprino. Mi fa il ripieno. Te che dici? Ti ispira, no? Sì. L'ho proprio reinterpretato. Faccio una base spezzatino, però faccio il filetto da parte. Poi lo condirò con la salsa che doveva essere per lo spezzatino. Qua preoccupata la vedo. Ma più che altro per i tempi. Perché è poco. Mi sta osservando. Però sono contentissima. Mi guarda con la speranza di potermi dare un aiuto, no? Però si fida molto di me. Tenta coltello. Falle ancora, eh? Mettici i taralli che ti assorbono l'umido della bietola. Forza. Dammi tua forza. Sono qua. Che concentrato che sei. Eh, sì. Non mi guardi neanche. Eh, Dani. Ma per la cronaca ti amo, eh? Ti amo tanto. Sono passati 15 minuti. Sì, chef. Sì, chef. Fai con calma, eh? Che c'hai il tempo. La prova l'hai messa? E di che deve stare in forno 20 minuti, eh? Hai acceso il forno? Ah, almeno dimmi bolle. Bolle. Qua oggi mia moglie ha sicuramente un valore aggiunto, non è una distrazione che mi può fuorviare dal mio obiettivo. Ciao. Ciao. Monica, come lo vedi, Davide? Bene. Mi mancava vederti cucinare. Sì? Sì. Ok, e stai ascoltare, come volevo capire, com'è che l'hai migliorato questo piatto? Allora, farò una fonduta, quando normalmente io manteco solo col taleggio e affumicherò con dei trucioli di faggio. Questo lo metti sotto al risotto? Te l'aspettavi che tua moglie scegliesse questo piatto? Beh, il risotto, sì, il risotto, sì, il risotto è simbolo del nostro amore chef. Devo farmi valere e devo renderle onore, sicuramente. Togli gli occhi? A te tolgo gli occhi. A te tolgo gli occhi, tra un po'. Abbiamo stato molto cattino il tuo. Ne sto pentendo. Io non sapevo che ci andasse così tanto tempo. Non ci parleranno più. Cosa ti ha portato la tua mamma di bello da cucinare? Allora, uno spezzatino. Io non posso replicare lo spezzatino per una questione di tempo. Quindi farò un filetto e ho preparato lo stesso fondo che fa lei per lo spezzatino. Ho fatto una salsa morning anziché una besciamella. Tua mamma lo sapeva che tu volevi fare la cuoca nella vita? Sì. Signora Bettina, lei è d'accordo con questa aspirazione di sua figlia? Sicuro, è ottimo, sì. Deve essere fiera di sua figlia? Solo per lo spirito combattivo che ci ha fatto vedere. Sì. Quando tira fuori le unghie... Fa paura. È schizzata, eh? È un bene, no? Benissimo. Abbiamo bisogno di donne così al mondo. Mancano 20 minuti e devo mettere il rito. Ti amo. Ti amo. È passata mezz'ora. Si c'è forza. Dimmi la verità, in questo momento cosa gli faresti? Sottico. Comunque, tu hai tutta la possibilità di variare questo piatto. Per carità, in effetti diciamo che sono anche a un buon punto. L'unica cosa che ho la pentola antiaderente non è che si sposa bene. Volevi la padella di ferro? Eh, quella perché la caratteristica della padella è fare la crosta di base. Basta non girarla, andiamo qua, la febura è qua, la bruciatura. Cucina così a casa o l'hai visto diverso? Cucina così. Anche se l'ho visto poche volte cucinare, perché io non sto mai in cucina. Ah, tu stai in sala dal pranzo, lo aspetti. Non è proprio vero, vero, vero. Allora cosa fai? Supporto morale. Allora ha ragione. Vabbè, dai. Dai, intanto le cose semplici ti sono mai piaciute. Non neanche a molire, però. Adesso sistemo le fave, non dure. Frullale e dopo le cucini un altro po' a cotte. Aggiungi anche un po' d'acqua se ti serve, eh. Metti un altro po' d'olio, Mary. L'ho messo. E metti un altro po'. Ti vedo felice. E il piatto? Come lo stai migliorando? Il tortino in forno. Intanto ho aggiunto delle cose all'impasto che lei non mette. Da quello che mi ha detto, perché lei la ricetta non me l'ha mai data. Eh, non me l'hai mai chiesta. Oh, è un tipino tua mamma e mi ricorda qualcuno. Lì mi ha sempre chiesto di preparare il piatto, non mi ha mai chiesto come si faceva. E tu cosa stai facendo? Sto sifonando la sua crema di favet. Nel tortino ci ho messo il guanciale che lei non usa, che ho fatto tostare o polverizzato nell'impasto. Mamma, mi spiace, ma sto cambiando un po' tanto la tua ricetta. Vedi che qui dentro non è facile arrivare tra i primi cinque, eh. Digli qualcosa che non gli hai detto mai. Mary sei bravissima. Non gli hai detto mai? No. Da quando è che non gli fai un abbraccio? Eh? Sai che i figli gli vanno abbracciati ogni tanto, no? Sì, 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 vado ad abbracciarla. Ci vediamo dopo. Meno di sei minuti, eh. Stanno litigando già. No, è una signora che secondo me ha fatto pochi complimenti alla figlia. Otto minuti. Sette minuti. Sei minuti. Rimangono solo cinque minuti alla fine della prova. Dai. Mutto da adesso in avanti. Mutto. Adesso è il momento. Antonio, fai il bravo. Niccolò. Chef. Quella è una bisca? Una bisca. Occio perché le bisca sono sempre molto forti. Sì, ma ha fatto una fonduta di caprino stagionato. Gli gnocchi. Sono in forno. Ah, devo vederli. Ah, devo vederli. Mi sto gratinando. Bella l'idea, non male. Pierpaolo, guarda, io non so se è la tua presenza, ma oggi lo vedo veramente che sorride. Scusa, ma non gli potevi dare una fotografia da mettere nel portafoglio? Un santino. Ogni tanto la tirava fuori, la tirava fuori, ti guardava e poi cucinava. Scusa, eh. Vabbè. Due minuti, Nicola. Il ricongiungimento familiare ha portato agli aspiranti chef carica e voglia di fare bene. Scusa, no. No, fa c***o. Forza. In questi ultimi minuti è fondamentale rimanere concentrati e fronteggiare le distrazioni che derivano dal cucinare sotto lo sguardo vigile del proprio parente. Forza, Mary, forza. Forza, forza. Che bello che è. Cinque, quattro, tre, due, uno, mani in aria. Stop! Stop! Per me è vinto, ricordalo. Grazie. Per celebrare questo incontro abbiamo deciso di assaggiarli tutti. Cominciando da quello di Davide, vieni. Anche io? Vieni, vieni, vieni. Ho fumicato la fonduta di taleggio, la pancetta l'ho messo insieme al miele di castagno e alle noci. Il radicchio che normalmente lo faccio andare nel risotto, ne ho estratto prima l'acqua che ho messo in un burro e l'ho usato per mantecare per non far sentire troppo l'amaro. Risotto, taleggio e pancetta, però quello nuovo, virgola. È il solito ma ho usato procedimenti totalmente diversi. Sull'impiattamento però, c'è tua moglie qua, abbiamo visto dei piatti più belli. Più buoni non so. Lo dico io, come me. Cottura del riso, buona. I sapori insieme sono integrati bene, però c'è un qualcosa... c'è un però. Va bene, chef. Si sono dimenticati del salano. Oggi hai pensato a lei? Eh beh, ce l'ho di fianco. Eh, lo sai che gli hai creato qualche distrazione? Si, credo di sì. Vieni qua, vieni. Un goccio di sale in più. Qua, vedo solo una cosa. Occhi a curiscini. Eh, in amore si perdona tutto, quindi va bene così. Guardalo. Marisa. Ricordi di casa. Signora. Salve. C'è un'emozione, che poverina. Volevo sentire la sua opinione su questo piatto. Mi piace. Sì? Sì. Ma riassume i sapori che il piatto originale aveva? È cambiato. Cambiato sì? Eh sì. Cambiato sicuro. Anche perché ne ha fatto un piatto che ci vogliono 4 ore a cuocere. Lei ne aveva 45 minuti. Non è che è stata molto gentile con sua figlia, devo dire. Non sapeva. Avrebbe potuto pensare a una schnitzel o qualcosa di un po' più... Un knudel o qualcosa così, non so. Esatto, vedi qui? Bah bah bah. Però è una proposta più leggera del piatto originale. Sì. 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 Le cipolle le hai fatte cuocere con... Le ho sfumate con il gramagnè, ho messo un po' di zucchero di canna e la carota viola per dare il colore a... Per dargli quel colore? Sì. Io ho mantenuto più o meno la ricetta. Le patate ci sono, le ho ridotte in crema. Con la curcuma, il cavolfiore c'è, anziché che usare la besciamella ho fatto una salsa morning. Lo spezzatino rispetto a quello di mia mamma è un po' più semplice. È un filetto che è buono lo stesso, poi dipende ovviamente dai gusti. I sapori funzionano molto bene insieme e ogni singolo componente ha le sue caratteristiche. È un piatto che mi ricorda un po' anche a me o la cucina di casa, ma me la ricorda. Non la rappresenta ma me la ricorda. Per cui hai centrato l'obiettivo. È molto buono. Grazie. Brava, hai fatto un bel lavoro. Grazie. Grazie signora. Grazie a lei. Vieni Antonio. Allora, questo giro qua non ti dico nulla sull'impiattamento perché comunque la paella tira, c'è richiama, crostacei sopra. L'unica cosa che non mi piace è questo. Scusa, lo metto subito qua perché non c'entra niente. Puoi dire che avevo la testa da un'altra parte. Dove avevi la testa? A fianco a me. Bravo perché comunque devi sempre avere un pensiero alla persona che vuoi bene, quindi è super questa cosa. Grazie chef. Allora, il sapore è buono? Qualche difettuccio ce l'ha, per esempio gli avrei messo un pelo di zafferano in meno, un po' più tagliato. Comunque complimenti perché ti ha dato un piatto difficile. Oh, gli hai tirato una mina, porca la miseria. Non lo sapevo. Mi ne lo meni quando arrivi a casa. Ma grazie a chi aveva a fianco comunque. Quando guardavo questi occhioni dicevo no, devo farcela. Ha un buonissimo profumo, l'hai fatta cuocerlo nel tempo che l'hai avuto e hai lasciato quel piccolo bruciato che torna al naso. Bene. Sei contento di questo? Anche noi siamo contenti, bravo Antonio. Grazie chef. Quindi ci vediamo a casa. Speriamo. Maria Teresa e mamma, è il vostro momento. Cuore morbido, è un tortino di bietole con un cuore di stracciatella di provola affumicata. Come lo vede il suo piatto? Bellissimo, non sei obiettivo. Che c'è? E poi mi fa piangere. Ma perché? La sento emozionata e mi emoziono anch'io. Sembra più sotto esame mia mamma che io, mi sta stritolando la mano. Vedo in questo piatto una ragazza che vuole dimostrare alla mamma cosa ha imparato e vedo pure un messaggio di quanto ti vuole bene. Il cuore morbido. Brava. Magari oggi, avendomi vista così, mia mamma ha capito che anche per il futuro questa cosa si può fare. La vita in cucina si può fare. È andata bene, non ti preoccupare. Nicolò e Pierpaolo, venite. Mi occhia alla romana con caprino fresco, una bisca di crostacei, un crudo di gamberi e una fonduta di caprino stagionato sopra. Pierpaolo, sono molto contento di vederti qua oggi perché ho visto Nicolò completamente trasformato. Il meglio, spero. Il meglio. Allora sono contento anch'io. Mi ha trasmesso tranquillità parecchia. L'ho cucinato per lui un piatto. La figura di mio fratello mi ha fatto sentire protetto e questo mi ha fatto sentire anche libero. Di cucinare con tutta la passione, la serenità e la tranquillità del mondo. Hai fatto un buonissimo,issimo piatto. Non è facile fare un piatto con la bisca dentro perché la bisca è sempre comunque una salsa coprente. L'hai dosata bene, secondo me hai messo gli scampi crudi in una maniera molto intelligente. l'unica cosa, vedi, c'è una parte di salsa che si è separata. Ti ho dato troppo grasso? Grazie. Me ne sono reso conto quando l'ho guardato negli occhi che è fiero, orgoglioso di me e che non devo mollare ad arrivare fino alla fine. L'arrivo dei familiari ha portato grande gioia nella cucina. Sì, ha gioia. Le ha fatte anche emozionare un pochettino però. Gli aspiranti chef sono riusciti a reinventare il piatto consegnato loro dai propri cari. I giudici stanno decidendo chi guadagnerà per il prossimo invention test un vantaggio importante che potrebbe portare a un passo dalla sfida finale. Si, direi di sì. Il migliore di voi ha fatto un piatto che, partendo da casa, può tranquillamente approdare in un grande ristorante. E questo era il senso della prova. Quindi il piatto che vince questa mystery box è quello di... Niccolò! E vai! Il merito di questa vittoria è dell'affetto. Penso che questa vittoria ha reso mio fratello molto orgoglioso di me. L'ho sentito dalla forza dell'abbraccio. Hai fatto fare una piccola rivoluzione al piatto che vostra nonna cucinava per te e per Pierpaolo. Bravo! Grazie, chef. Presto scoprirai i vantaggi che ti sei guadagnato per il prossimo invention test. E ringraziamo i vostri cari per aver portato un pezzo di casa qui nella cucina di Masterchef. Penso che sia il primo invention che sono così... così carico. Davide, baciala. Non l'hai fatto fino adesso? Adesso anche lei ci crede. Devo solo continuare a crederci io e pensare alla finale. Eh? Per questo invention test dovrete replicare due piatti e sarà Nicolò ad assegnarli. Il primo piatto da replicare è... Germano con astice in salsa peperata. Il secondo piatto da replicare è... Linguine e calamari. Due piatti grandiosi direi. Di due chef molto famosi e apprezzati. Sapete di chi sto parlando? Forse sì, chef. Eh sì. E dello chef Barbini e dello chef Antonini. Il germano con la salsa peperata mi ricorda chef Iglescorelli. Perché sono andata a cena da lui e una volta ho mangiato una pluma iberica con la salsa peperata. E quell'altro, hai qualche idea? Marisa. Chef Canavacciolo. Uno dei must di chef Canavacciolo. Io me ne sono innamorata dalla prima volta che l'ho visto. Ve lo svelo io il segreto. Il germano con astice è dello chef Bruno Barbieri. Ok. C'hai azzeccato, Nic. Mi? Mentre invece le linguine sono le famose linguine dello chef Antonino Canavacciolo. Vorrei le linguine. Le conosco. Ho visto mille volte dei video in cui lo chef le spiega. Per cui... C'è un piatto che secondo me a occhio apparentemente sembra più semplice rispetto al germano. Però è di Canavacciolo. Quindi, sì. Voi dovrete cucinarli seguendo passo passo i due giudici. E visto che tutti e due i piatti sono molto elaborati, non sarà per niente facile. Non che sia semplice, però. Concentrati, stare al passo e andare veloce. Nicolò, tu, in quanto vincitore della Mystery Box, dovrai assegnare i piatti a tuoi compagni e a te stesso. Ok. Vieni qui accanto a noi e poi guardare anche gli ingredienti, Gianni, che ci sei. Sono molti. Sono piatti che sono il frutto di uno studio, di un lavoro. E poi sono anche piatti che sono stati venduti, pagati dai clienti per anni. Una parte di me preferirebbe il germano come gusto. Per quella idea che sembrerebbe più facile, magari anche le linguine non sarebbero male. Prima devi dire che cosa scegli di cucinare tu. Io cuscino il germano. Ci avrei giurato. Antonino, ho vinto la scommessa. No, anche tu eri convinto. Ok. Mi sono avuto assegnato sicuramente la preparazione più difficile, però so che nelle mie corde la cuscino è sicuramente meglio. Magari Nicolò si è tirato la zappa sui piedi. Invece, che piatto assegni ad Antonio? Ad Antonio assegno le linguine. Cosa vuoi che cucini Maria Teresa? Il germano. Siamo a me. Il germano. Non mi manda a casa. Non deve essere. A Davide cosa vuoi assegnare? Il germano. Perfetto. Sono contento. Ha voluto dare il piatto più difficile a me e Maria Teresa, magari perché ci teme, però non penso che sia stato fatto per farmi un torto. A Marisa le linguine. Grazie Nicolò. Ti voglio tanto bene. Tendenzialmente non voglio sfavorire Marisa e Antonio. Se dovesse arrivare assieme a loro avanti, hanno un modo di cucinare comunque standard. Quindi è più facile averli come avversari. Adesso tu Nicolò potrai usufruire ancora di un grande vantaggio. Potrai ricevere direttamente da Chef Barbieri dei consigli fondamentali per la realizzazione del piatto. Cioè, scusi per il contento ed è il piatto che era. Sono cose che abbiamo fatto insieme, quindi non c'è problema. Ci mancherebbe altro. Il piatto di Barbieri fa paura, eh? Ci sono 6-7 passaggi che devi fare nello stesso momento. Volete che vi conto gli ingredienti? A livello chirurgico, mi sento. 1, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 6. Tenere sempre la postazione pulita. La cosa importante è anche la farcia. La farcia va molto impastata. Impastata la carne, la farcia. Ok, 60. La farcia va molto lavorata, perché è tutta coltello, non è a brunoise. Quando chiuderai l'evolucro, devi stare molto attento a usare solo la rete che non abbia delle venature. Perché se no, quando le vai a cuocere, quelle si spezzano. Si sta raccontando tutto, non è più un segreto, eh? Va bene, grazie, chef. Perfetto. Gli hai detto la ricetta in poco, però? No, gli ho detto solo due cose. Niccolò, torna pure al tuo posto. Per preparare i piatti di chef Barbieri e chef Canavacciolo, avrete 45 minuti di tempo. 45 minuti fare un piatto di pasta è perché sicuramente lo chef Canavacciolo fa sudare. C'è tanta roba da mettere. Io immagino che loro andranno molto veloci. Ma scusate, voi non dovreste indussare la casacca e fargli vedere a questi ragazzi come fa sto piatto? Dai, pap, 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 come on. Ok, bene. Tac, tac. Ah. Chef Barbieri che indossa la giacca è molto affascinante. Si è fatta, Bruno? Sì, ci sono. Sto in bolla. Possiamo iniziare? Avete 45 minuti di tempo per cucinare al passo con gli chef Barbieri e Canavacciolo. 45 minuti a partire da... Ora! Allora, dobbiamo lavorare a livello chirurgico perché gli ingredienti sono tanti che vanno in questo piatto. La prima cosa da fare è mettere la zucca nel forno, esattamente così. La gara è cominciata. In questo difficile invention test, per gli aspiranti chef l'obiettivo è non perdere neanche un passaggio di entrambe le complesse preparazioni, perché è l'unico modo per chiudere al meglio il piatto e scampare così a rischio eliminazione. Bisogna preparare la salamoia bolognese. Mettiamo dentro un po' di sale, alloro salvia, un po' di buccia di limone, pepe, un po' di noccio moscata, un picchietto di aglio, un po' di rosmarino. Facciamo andare. Sapete fischiare? Antonino non si fischia in cucina. Bruno sta spiegando, non si mette a fischiare. Antonio, Marissa, mi seguite? Sì, sì, chef. Hai visto? Non ho bisogno di spiegare. Da una parte abbiamo un chef che racconta il suo piatto. Ok, profumatissima, perfetta. Il nostro, muta, devi rubargli il lavoro. Lui non parla, perdi dei movimenti, è inevitabile perché guardi quello che fai e poi lo replichi. Ok, così. Forse mi è andata bene con lo chef Barbieri, anche se non ho gli occhi sul suo tagliere e sento cosa fa, ce lo sta raccontando. A questo punto l'acqua bolle, mettiamo giù l'astice, qualche minuto a sbianchire e intanto sezioniamo il germano. Così, bello. Togliamo la pelle. Ok, bene. La parte bella della ricetta a cui devo stare molto attenta è la salsa di pane. C'è bisogno di non perdere neanche un passaggio. Vino. Perdere un passaggio vuol dire restare indietro. Scalogno. Uvetta. Timo. L'avete visto? Prepariamo la cosiddetta farcia. Tagliamo tutto a brunoise, molto fine. Così. Mi sembra il mio nonno, credimi. Vedo un po' di... Cosa vedi? Cosa vedi? Non so. Cosa vedi? Cosa? Là c'è un ricettone. Ma quattro elementi. Un casino, cioè, sentiamo. Dai, puliamo i calamari? Tutti? Sei stanco? No, no, no. Perché se no, continuo a guardare là e perdo tempo. Se invece mi dice tutti, io vado avanti. Ma ti stai spiegando cosa devo fare? No, questo no. Eh, io non ho capito. Io non ho capito. Tolgo la parte degli occhi che non mi serve e questo li metto nella polpa. Ah, ok, ok. Sì, ma mi diamo a sciacquarli... Sciacquare un pesce togli il sapore, ricordatelo. Una chicca. Giorgio, fatti, no chiacchiere. Poi un pizzico di sale, qua, così. Mi dispiace dirtelo, Antonino, però di là è molto più eccitante. Sì, eh? Ok. Guarda che cucinata di là. Così, voglio sentire un po' di coltelli che vanno, così. Siamo? Sì, certo. Bene, molto bene. Raccogliamo tutta la polpa. Ci sei, Nicolò? Sì. No, sei indietro, eh? Se no non tirarla così, se no rimangono dentro tutti i nervi, bevi? Prendiamo l'astice e lo apriamo. Ok. Super. Prendiamo un pezzo di polpa di astice brunoise a piccoli cubetti. E la vado a mettere nel ripieno. Ci siete? No, 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 no. Non mi sento indietro. Forse sento più indietro i miei rivali. Bisogna muovere le mani. Abbiamo solo 45 minuti. Porro. Poggiamo qua, dentro alla farcia. Via. Poi. Ok. Bruno Asdi. Veloci, ragazzi. Sì, però non ho sentito cosa ha fatto. Zucchine. I zucchine. Grazie, Giorgio. Andiamo a metterla dentro qua. Così. Sta cucinando con tranquillità. Quindi potrebbe sembrare anche facile stare al suo passo. In realtà, in quella calma, in quella tranquillità, sta facendo tantissime cose. Via. Ogni tanto Locatelli ci dovrebbe ricordare che quanto tempo è passato. Giusto? Adesso stavo appunto facendo questo, signor Barbieri. Metto un po' di salanoia bolognese nel ripieno. Sono passati 15 minuti. Davvero? Ragazzi, siamo un po' indietro, eh. Mettiamo il pane all'interno dello scalogno. Noci, uvetta. Metto il brodo nel pane. Intanto metto sulla salsa. Prendiamo un tegame. Tac, va qua. Mettiamo lo scalogno. L'amarone, uno dei miei vini preferiti. Guccia di olio all'aglio. Togliamo l'anima dall'aglio. Taglio le melanzane. Ci siete? Sì, certo. Così, voglio sentire i coltelli che vanno. Deve essere fine. Intanto mettiamo la marmellata di frutti rossi dentro nella salsa. Tolgo il timo. Poi prendiamo il ripieno. Ok, arrotoliamo. Per chiudere il rollè ci vuole tanta manualità perché è tutto un discorso di velocità, pressione e capacità di andare avanti. Poi prendiamo la crepinetta. Arrotolo bene. Arrotolo. Questa mi serve per dargli una forma. Poi faccio questo passaggio. Ok? Così. Di solo quando uno cucina, cucina in silenzio, no? Deve essere così, avete visto? Invece lui parla, 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 parla. Sono sicuramente più bravo di Antonino anche perché il mio piatto è veramente molto complicato, molto difficile. Ci sono un sacco di passaggi ma credo che oggi con questo piatto Antonino è fuori da MasterChef. È dura. Antonino, ma tu non gli dici niente a loro. Oh, gli ho fatto vedere la cremosità? Che gli devo dire, scusa. Continua a fare cose senza dirgli niente. Allora, Antonio, quando è bella, fluida, cremosa, aggiungere olio e sale. Ok. Così devi fare. Allora ci siamo. Guardate, questa, guarda. Eh, mi è dura. Guarda. Non so il quantitativo di pane che ha messo. A me è venuta dura. E visto, a te ha fatto fatica? Ah, capisco che va aggiunta altra acqua quindi io nel mentre aggiungo altra acqua. La salsa di pane non deve essere troppo densa. Devo immaginare un coperiggio. Allora il pepe va tritato così. Lo mettiamo dentro la salsa. Calamari puliti. Calamari puliti dove ne hai messi? Sì. Olio, un pizzico di sale e facciamo marinare, ta? Guarda. Ok. È passata mezz'ora. Piano piano facciamola andare. Non deve aprirsi. Ancora solo 15 minuti. Spiega i passaggi. Spiega cosa stai facendo. Amarisa, Antonio. Cosa che non avete capito? Oh, fatemi le domande. Padella calda? Padella calda. Sì. Antonio, padella calda. Hanno capito sta padella calda. Vai, spiega il prossimo step. Oh, ma vai un po' da Bruno. Io lo so perché sei qua. Perché a te ti interessa vedere questa ricetta. Lo so. Questo è già nel menù. Già nel menù alla locanda. A Londra, eh? A Londra, tranquillo. Filtriamo il brodo di pesce in una padella molto calda. Molto calda. Così il liquido riduce. Quanti mestri bisogna metterne lì? Io le sto mettendo. Te, Antonino, devi spiegare. Guarda gli altri. Non hanno neanche ancora fatto una domanda. Lo zanopacele significa che l'ho spiegato molto bene. Andiamo nel forno direttamente. I nostri germani sono tutti dentro, ragazzi. Sì, c'era. Bruno. Dimmi, Nino. Mi stai un po' disturbando. Stai parlando? Cucina ogni tanto. È tutto nel forno. Antonino, quando butti la pasta? Calo? No, adesso aspetta. Come aspetta, andò? Aveva detto che le pignasse. Eh? Mancano dieci minuti alla fine della prova. Dieci minuti alla fine della prova? Stai praticamente in mezzo. Mentre il tempo scorre inesorabile per tutti. Caliamo la pasta, dai. Curare al meglio ogni dettaglio del piatto è fondamentale per garantirsi una vittoria certa. Sto preparando una purea di zucca. Non arriviamo lunghi, eh? Oh, ma stanno facendo i lavori di là? Così, con i coltelli. Una bella grattatina di amaretto così. Il succo di mostarda. Impasto tutto. Mito anche un po' di poivre. Cos'è che fa? Avete visto? Pomodoro pure qua. Un po' di olio. E un po' di sale. Prendiamo il germano. Alziamo la pasta. Si scivola. Alziamo la pasta. Vedi, io dico una cosa, non lo fanno. Vuol dire alziamo la pasta. A te l'Inghilterra ha fatto male. Oh, vieni a vedere com'è. Sì, sì. Musica. Musica o non musica. Piano, piano. Mancano cinque minuti. Com'è cinque minuti? Possiamo scegliere e impiantare come ci pare. Ok? Sì, sì. Allora. Tu sei una cosa grande. Antonino, adesso ti metti anche a cantare. Cioè, prima fischi, adesso canti. Sto saltando per poter rubare quello che sta facendo lo chef. Perché non parla e quindi devo saltare per vedere le consistenze. Senti? Vai? Mettiamo una goccia di olio all'aglio. Musica o non è un po' di olio all'aglio. Barbieri, ci tengo a dirti che Cannavaciuolo sta impiattando la pasta col coppapasta. No! Sì! Vabbè, eliminato da Mastex. È solo per questo. Calamari dentro. Al sugo. Manca un minuto! No, no, no. Anche un minuto. Hai visto? Giorgio parlava, 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 hai visto? Mi raccomando, fate molta attenzione quando lo andiamo ad impiattare, d'accordo? Sì, sì. Mi ostiono le mani ma piuttosto devo tagliare, devo scegliere le fette più belle. Vedete che sto facendo? Questo è tutto il sapore che diamo alla linguina, guarda. Sì. Barbieri, lei sta impiattando? Manca solo una manciata di secondi. Dai! E andiamo di salsa, eh? Mancano dieci secondi. Nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, sulle mani! Sulle mani! La prova è stata molto, molto, molto difficile. Spero che la mia strategia salvi me. Iniziamo gli assaggi con il vincitore della Mystery Box, Nicolò. Allora, questo è il mio piatto. Che te ne pare? Eh beh, se lo più bello, sicuramente sarà anche più buono. Sei molto gentile. Però spero di essere riuscito a avvicinarmi, vediamo. Vabbè, vediamo. Tra i due contorni direi che è meglio la zucca. Qua c'è un piccolo problema. Sapore buonissimo. Il sale. Mi sembravano così salate. Va bene. Fidati. Meglio il sapido, piuttosto che un difetto grosso che fa del piatto un piattaccio. Di Germano non è male, l'hai tirato bene. Dentro è bello sezionato. Ma toglimi una curiosità, Nicolò. Tu perché hai scelto questo piatto? Perché di regola cucino meglio quando cucino qualcosa che mi piace. E perché hai scelto Davide e Maria Teresa? Com'è la storia? Essenzialmente hanno dei guizzi in alto e a volte degli inciampi. Siamo arrivati a un punto della gara in cui c'è bisogno anche di... Tirare delle linee. Di valutare i propri avversari. Quindi per te questo era un mettere alla prova loro se potevano essere all'altezza di proseguire? All'incirca. Ok. Bene. Non è trasparente, Nicolò. Io non ho capito se mi voleva tirare un missile o non mi ritiene all'altezza di questa cucina quindi mi ha dato il piatto difficile per sbattermi fuori. Nicolò, secondo me la tua strategia oggi con un piatto del genere a Maria Teresa e a Davide li volevi proprio colpire. Assolutamente sì, cioè non mica mi nascondo dietro a un dito. Perché non hai detto? Ok. Ci voleva così tanto? No. Maria Teresa, vieni, è il tuo momento. Germano, cotto bene. Poi c'è un errore. La salsa, per quale motivo sei andata a metterla sopra la carne? La salsa sempre da una parte perché se questo è un rollè e quindi all'interno c'è una farcia, se tu me lo copri con la salsa. Chiaro. Però l'hai chiuso bene, complimenti perché hai lavorato come sempre super aggressiva, il piatto era un piatto molto difficile ma l'avevo fatto apposta perché volevo vedervi veramente a quale livello eravate. Anche Nicolò l'ha fatta apposta. Vabbè, Nicolò, lui era il suo momento, giocava di strategia, quindi normale, ci sta. Sono convinto che avresti fatto forse così anche tu. Forse peggio. Forse peggio, ottimo, cioè? A tutti questo. A tutti. E a me le linguine. E questo è veramente essere vero, brava. Grazie, chef. Brava. Se avessi avuto io il vantaggio certo che avrei fatto peggio, ma non ho nessun problema a nascondermi, non capisco perché Nicolò non dica le cose apertamente. Devo dire che trovi sapori molto armoniosi. L'unica cosa è che questa spolverata qui che ha un po' uno shocking effect. Io la interpreto come una gran volontà tua di lasciare un segno questo. Mi piace. Ho lavorato aggressiva e concentrata perché voglio tenere aggrappata questa cucina più che posso. Davide. Si è arrivato molto vicino. Grazie, chef. Speriamo anche nel sapore. Hai usato una bella delicatezza nel mettere le polveri. Hai fatto un rolet di spessore alto. Hai reinterpretato la quenelle di melanzane e tu hai fatto un tortino di melanzane. C'è proprio molto bello. Sono onorato. Hai sentito però cosa ha detto Nicolò? È un grande complimento secondo me perché se ha paura di me vuol dire che... Adesso però andiamo all'assaggio. Speriamo. Role è chiuso molto bene. C'è una bella morbidezza, un buonissimo sapore. Lo ringrazio, chef. Germano si sente, un bel germano. Sono anche... Non sorpreso perché questo è un piatto anche abbastanza tecnico e sul tecnico tu sei uno forte. Complicemente, buon lavoro. Grazie, chef. Grazie davvero. Io non l'ho mai capito, Davide. Non ho mai capito la sua cucina. È talmente chiuso. Davide, posso dirglielo la tua strategia qual era? Penso esattamente la stessa. Solo con la differenza che io avrei fatto il suo piatto. Perché sinceramente era un piatto che mi invogliava a mangiare. Quindi anche questo qua mi invogliava molto a mangiare. Però il suo era un qualcosa di diverso. Il problema è che dietro le cose semplici, certe volte ci sono dei passaggi che se li sbagli sei fregato. Magari una cosa più complicata. Sì, era un piattino di pasta. Dai, su, così, dai, dì. Io faccio cose semplici? Non penso proprio, chef. Direi proprio di no. Evidentemente era meglio stare zitti. Mi sono anche un po' incartato perché non volevo dire parole che fossero fraintese, quindi... Davide sembra che abbia la certezza comunque di essere bravo, di saper fare. Si gonfia abbastanza di fronte agli chef. Un po' si dice dalle mie parti come un galletto. Vuoi sapere qual è più buono? Quello di Bruno? Eh, certo. Non glielo dire. Ok. Grazie, chef. Antonio, ti vedo preoccupato, che? Vieni qua, porto il piatto. Tanto sereno no. Alla fine sono felice di aver fatto questa prova. Se parlavo un po' di più, magari tribulavo un po' di meno. Un assaggio importante questo di oggi, quindi... Allora, la ricetta di Bruno c'aveva 27 ingredienti e ha spiegato tutti i passaggi. La mia c'aveva meno ingredienti, ma ho comunicato poco. Perciò pure voi... Che la padella doveva essere calda, questo l'avevano capito. L'ha capito, eh? Io volevo fare i complimenti ad Antonio e Marisa. Avete lavorato molto bene. Vi siete mossi bene. E vi dico che la ricetta non era facile. Il sapore è buono. L'unica cosa che ti dico, che ce l'avevo notato mentre arrivavi alla fine della ricetta, che tu hai avuto problemi con la parte liquida, con il brodo. Vedi? Che si vede che manca un po' di liquido. Di liquidità. Che io c'avevo più liquido nella pentola. Eh, avevo fatto l'errore di aver messo troppo. Eh, ho parlato poco, andò. No, vabbè. Però doveva essere noi a seguire meglio. Mi hai messo un po' troppo pane. Pane, sì. Ma alla fine sei riuscito a dare quel gusto di calamaro, quel gusto di segale, aglio. Cioè, molto buono in bocca. Un pochi così. Veramente adesso c'è la salvezza per un granello di sale. Io quella di Antonino non l'ho mangiata. Però se vado a un ristorante e mi servono un piatto di pasta così, sono contento. Sì. Grazie, chef. Vai, che vuoi? La medaglia? Marisa, vieni. Hanno lavorato tutti bene. Adesso c'è, incrociamo le dita. Ho preparato questo piatto con tutta l'energia che avevo dentro per non deludere le aspettative di chef Canavacciuolo. Mentre nominavo il piatto, ho visto che tu sorridevi. Lo conoscevi? Sì, chef. Non l'ho mai fatto, però lo conoscevo. Ti dico, se riuscivi a ottenere quella cremosità nella padella, questo che vedi qua, guarda, questo è tutto un concentrato di gusto, perché è un brodo ridotto. Ho sbagliato perché l'ho messa solo al centro. Eh, io l'ho messa sia nella parte centrale che nella taccia. Guarda, si vede? Sì, si vede. Se riuscivi a mettere questo, ti assumeva a Villa Crispi. Grazie. Mi dispiace per te, ma magari puoi venire da me a Bologna se l'hai fatto bene. Qua subito? Eh, che miseria. La lata la prendo io. La lata la prendo io, aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Il salto è solo quella marrone. Sulle due salse di pane non noto molta differenza, eh. Questo è un po' su di sale, mi sa, eh. Leggermente. Se devo essere proprio sincero. Bella, al dente, giusta. Sento un calamaro. Uno spillettino giusto, pulito bene. Tutti siamo stati bravi e tutti siamo stati all'altezza, per cui da cosa dipenderà la scelta degli chef? Per quanto mi riguarda, di gusto c'erano i piatti. Tu eri stato molto coinciso. Lui gli ha lasciato un po' più di spazio per fare le loro cose, ma tutti e cinque hanno veramente presentato dei prodotti a livello. Tu sei lì che lavori, intanto devi ascoltare uno che fa boh, 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 nel cervello. Gli aspiranti chef sono riusciti a soddisfare il palato dei giudici. E per loro, decidere chi ha superato la sfida è uno spoglio difficile. Perché solo i migliori potranno misurarsi nella prossima prova in esterna, in una delle cucine internazionali più importanti al mondo. In generale, siamo davvero felici e orgogliosi dei piatti che ci avete presentato. Grazie. Grazie. C'ho l'ansia, perché non riesco a capire. Non ho sentito delle cose clamorosamente fatte male, quindi... Voi siete i cinque migliori aspiranti chef di questa non-edizione di MasterChef. E il posto che occupate ve lo siete guadagnato cucinando veramente bene. Oggi tutti avete dimostrato che non ci siamo sbagliati a investire su di voi. Siete riusciti ad affrontare i piatti stellati dei giudici con grande competenza e reattività. Merita di andare al prossimo importante appuntamento, quello con una delle cucine stellate più rinomate al mondo. Nicolò, complimenti. Grazie. Nicolò non l'ha neanche capito. È sul tambolo. Ah, so io che merito di andare. Grazie. Io ancora stavo aspettando. Grazie. Sì! Grazie, non l'avevo capito. Grazie. È che qui la realizzazione ha bisogno di calma, perché è tutto molto adrenalinico, e uno non realizza subito. C'è un'ansia, ma non c'è un'ansia. C'è un'ansia, ma non c'è un'ansia, ma non c'è un'ansia. Maria Teresa, tu meriti di andare. Grazie. Oh, fuorendo di tensione. Brava. Scusate. Ho un crollo abbastanza psicologico, perché sono passati gli altri due piatti uguali al mio. C'è una tensione che sta lì con un coltello. Merita di andarci anche... Davide. Grazie, Sian. Dallo Stellato ci vado con molta umiltà e tanta, tanta voglia di dimostrare chi sono a delle persone che sono in un livello 100.000 anni luce più o meno di me. Ci andrà anche... Antonio. Non riesco a spiegarmi perché non sono stata chiamata. Marisa, fai un passo avanti. Marisa, sei qui davanti perché il tuo è il piatto migliore della vita. Buona serata. Complimenti. Grazie. E avrai un grande vantaggio della prossima prova. quella in cui vi confronterete con una grande cucina stellata. Un passo fondamentale che è un po' la porta di accesso alla finale. Adesso è arrivato il mio momento. Ci ragionerò molto bene. Mi dispiace per i miei amici. te l'ho detto. Te l'ho detto. Quindi ragazzi, siete stati tutti veramente bravi. Grazie. Ma tu Marisa, sei riuscita a ricreare l'esperienza del piatto originale. Grazie. Complimenti. Mamma, che emozione. Bella, Nicola. Ti stava volendo. Ci ha salvato tutti. Grazie, Nicola. Grazie, Nicola. Grazie, Nicola. Sì! Farò di tutto per non andare a casa prima della finale. E di vincere la finale, soprattutto, perché una volta arrivato in finale, che stiamo lì a fare? Mamma mia, si crepava lì davanti. È bravo, ammazzata. Che ti pensavi? Sì! Sì, è stato anche una vacca. Nell'ultima prova in esterna. Benvenuti a Parigi. In una location da sogno. Non ho parole per descrivere il posto dove siamo. I cinque aspiranti chef dovranno misurarsi con la prova più dura di tutte. Lavorare. Nelle cucine di un ristorante 3 stelle Michelin. E con estremo piacere che vi presento Yannick Alenot. Un pilastro della cucina francese internazionale. 8 stelle Michelin. 17 ristoranti nel mondo. E volete inclinare? No, no, no. No? Solo buono. Ok. Ciao. Troppo? Troppo? Chi fallirà? Come voi ci vediamo al pressure test. Dovrà abbandonare per sempre il sogno di diventare il nono Masterchef italiano. A un passo dalla finale. Non lo stai facendo sotto, che può darsi che vai a casa. Non lo stai facendo sotto,